Eccoci qui di nuovo sul mio canale. Buongiorno e bentrovati a tutti ragazzi. Questo breve video è il continuo del video precedente, quello dove facevamo la pulizia dell'impianto EGR. Come avevo detto appunto a fine video, la macchina andava bene, però c'è stata una piccola breve storia triste. Ovvero, è vero sì che la macchina è andata bene dopo il trattamento fatto con quel famoso e magico spray, però c'è un però. Qual è questo però? La sera siamo andati con Lupo a provare la macchina e ripeto, andava bene, un treno, tutto quello che ci pare. Il giorno dopo vado a mettere in moto la mia macchina e praticamente il primo segno di anomalia, ovvero nessuna spia sul cruscotto, però la macchina strattonava. Cominciavo a camminare tra i 40 e i 50 all'ora, tra gli 80 e i 90 all'ora si ripeteva, però dopo a lungo la macchina apparentemente sembrava andare bene. Giorno dopo giorno che succede? Che nel giro di due, tre giorni, quattro giorni, la macchina ha cominciato ad andare veramente, veramente male, ragazzi. E la cosa era molto, molto preoccupante. Dico era perché fortunatamente questa storia triste si è risolta al meglio. Che cosa è successo? Che uscendo di casa un paio di mattine fa, come vado a mettere la prima, diciamo apposta, proprio per spostarmi, a meno di 20 km all'ora, vado a inserire la seconda, ha cominciato a singhiozzare e non mi permetteva di accelerare e era un continuo singhiozzare appunto. Andavo a 30 all'ora, a 40 all'ora, stessa cosa. La macchina era fredda e che cosa succede? Che il primo chilometro, chilometro e mezzo è stato un tutt'uno fare frizione, gas, frizione, gas e la macchina non andava. Poi per fortuna ha cominciato ad andare un pochino meglio e però a 40, 50 all'ora, 70, 80 all'ora e si ripresentava il problema. Dopo aver fatto varie prove, varie verifiche, visto sempre sui forum, continuava a dare sempre lo stesso ed unico problema. Il problema era sui gas di scarico riciclati. E allora, la valvole GR non è, il motorino della valvole GR non è, c'è un sensore. Questo sensore se lo cercate su internet e credetemi diventate matti. Io vi parlo sempre per quanto riguarda Ford Focus TDCi, 66 cavalli vapore, 90 cavalli. All'interno mi era venuto un dubbio che io avevo sostituito un tubo, ovvero questo tubo qui, pochissimo tempo fa, non so se si vede, ok, questo tubo. Allora, questo è l'unico tubo che si ricongiunge al tubo EGR, passa qui dietro e va dietro alla nostra valvola EGR. Questo qui lo spinotto andava bene, perciò gli unici due sensori che troviamo sono uno questo qua e uno questo qua. Qui andandolo a smontare troviamo un piccolo tubo che dovrebbe lavorare sulle depressioni, credo, perché c'è solo un piccolo tubo forato. Qui dentro invece troviamo un altro tipo di sensore, praticamente è un sensore, ecco la foto, ecco perfetto, questo è il sensore, la foto che state vedendo è del sensore che parliamo, del sensore in questione. Che cosa è successo? Che noi con lo spray sicuramente siamo andati a sciogliere tutta quella piccola incrostazione che si era creata e nell'aspirazione, passando l'aria, quelle micro particelle si sono andate ad attaccare in punta al sensore. Non permettendo perciò una lettura corretta dei valori della macchina. Allora che cosa ho fatto? È bastato dare due o tre spruzzate con un prodotto apposta per sgrassare parti oliose e quant'altro e apparentemente ho fatto già circa un 150-200 km e vi posso dire ragazzi che la macchina è tornata ad essere brillante e potente forse anche più degli ultimi tempi come andava. Perciò io nei forum ho letto problemi di cablaggio e problemi sensori di chissà che cosa parliamo, ragazzi è bastato smontare un solo bulloncino, estrarre quel sensore e pulirlo. Perciò non voglio arrivare a conclusioni affrettate come nel video precedente, incrocio le dita e spero che sia stato quello. Perciò prima di andare a smontare cablaggi, spinotti, sensori, aspirazioni e tubi fate quella semplice prova, non toccatelo con le mani perché mi è stato sconsigliato. Sfilate il sensore, uno ha spruzzato due di un qualsiasi detergente non troppo aggressivo, si può usare anche quello per pulire i freni o le macchie sul motore, soffiate non col complesso, io l'ho soffiato così all'aria e l'ho rimontato. La macchina già da subito è tornata nella sua situazione originale. Perciò prima di fare diagnosi affrettata provate a fare quella semplice prova e io spero che siate fortunati come lo sono stato io. Per adesso è tutto, ciao e grazie ancora da Capezza 72.